Acquisisci 5 nuovi valori, l'offerta, il percorso, l'idea, la visione e l'interazione. Noi siamo oltre il convenzionale e perseguiamo sempre gli obiettivi previssati. Siamo il miglior partner in comunicazione digitale nella nuova era. Chi siamo? Cata Digital Communication. Molto di più di una semplice presentazione, ma molto, molto di più se cerchi solo una semplice agenzia. Info e contatti su www.catadigital.it. Con noi e insieme a noi, Incorporation Team, Dixot RF, Videoproduction e Light Movie. Grazie a tutti.